Le frazioni di Bazzano, Onna e San Gregorio, insieme ai comuni di Poggio Picenze, Sulmona, Pettorano-Sulgizio, Rivisondoli, Roccaraso, Bussi e Capestrano, saranno i territori interessati dal programma di messa in sicurezza della viabilità, che comprende la realizzazione di rotatori e stradali nei tratti di competenza ANAS. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Infrastrutture del Consiglio regionale d'Abruzzo, Pierpaolo Pietrucci. Il programma di interventi è stato concordato con il capo compartimento dell'ANAS Abruzzo, Antonio Marasco. Lungo la strada statale 17 poi è iniziato il programma di installazione dei dissuasori ottici per prevenire il passaggio dei cinghiali e degli animali pericolosi per gli automobilisti, specialmente su alcune tratte individuate come fortemente critiche.